Ecco In destra per più 60 a destri Alla cappella di 65 e destra 65 65 65 30 60 60 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 65 60 60 60 60 60 60 il costo da 3, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 16. In destra 3, in destra 3, verso sinistra 4, 30, in destra 3, 2 a più, per il doppio destra 1, il doppio destra 1, 50 a giusta, all'ottio destra 4, 10, in destra 3, verso sinistra 3, verso sinistra 3, verso sinistra 3, verso sinistra 4, 30, in destra 2, per destra 2, piega sinistra, Sì, io ho scelto 2 e 2, 2, 20, sinistra 4, 5, 40, all'opo, 40, sinistra 4 più, 40, sinistra 4 più, 40, sinistra 4 più, 40, e da dentro, 40, all'opo, una piccola scelta, metto, metto, minuto, minuto, metto, 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 metto. Sì, io ho scelto 2 e 3, 2, 20, sinistra 4, 3, 2, 30, according to the vehicle, o non se ho scelto, una pista vinos, una pista, una pista, una pista, una pista, aspetta, 5 pack 4 pack 4 Ace 4 pack e ora che l'arriente abita 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 e abita abita subiamo a ad al dosso stacca, destra 2, destra 2 per destra 2, 20, destra 4, 20, destra 3, 40, destra destra 4 per destra 2, destra 4, destra 4, destra 4 per destra, destra 4, destra 4, 30